Moto contro albero al chilometro 11.300 circa della statale 288 Catania-Enna. L'impatto è stato fatale a un giovane motociclista di Ramacca che è deceduto sul colpo a seguito del grave trauma facciale riportato. A nulla sono valsi i tentativi mossi dai soccorritori che hanno cercato in vano di strapparlo alla morte. Sul posto erano giunti anche i sanitari dell'eliambulanza dell'ospedale Cannizzaro di Catania che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per Fabio Di Benedetto, giovane 22enne di Ramacca, questo è il nome della vittima, conosciuto e stimato da tutti nel suo paese, l'ultima corsa in sella alla sua Yamaha 600 ha chiuso il cerchio della sua giovane esistenza. Questi i fatti. Il motociclista, dopo aver fatto rifornimento di benzina in una stazione di servizio distante qualche chilometro dal magazzino di prodotti agricoli dove lavorava col padre, ha perso il controllo del potente mezzo, schiantandosi contro un albero di eucaliptus. Un tragitto che chissà quante altre volte aveva percorso in passato senza alcun problema, ma al chilometro 11 circa qualcosa è andato storto. La dinamica dovrebbe essere anche chiara ai carabinieri della stazione di Ramacca che potrebbero imputare le cause del decesso alla velocità sostenuta del mezzo a due ruote. Una velocità che, in sella alla Yamaha, non sarebbe commisurata rispetto alle condizioni del manto stradale di un tratto in rettilineo assai pericoloso, se percorso a velocità sostenuta. Secondo i rilievi compiuti dai carabinieri della stazione di Ramacca, coordinati dal maresciallo Luigi Antonino, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che la moto procedesse con speditezza. Il giovane, secondo i rilievi, non indossava nemmeno il casco protettivo. Per il resto non sarebbero state rilevate tracce sulla sede stradale che potrebbero fare presagire ad altre circostanze.